Ed ora ci colleghiamo con il vice sindaco di Montecorice Pasquale Tarallo per la questione casi positivi nel comune cilentano. Pasquale, buongiorno, ben ritrovato sugli schermi di Cilento Channel. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori e amici di Cilento Channel. Pasquale, alcuni giorni fa precisamente trese, se non sbaglio, il comune annunciava due casi non residenti nel comune di Montecorice rientrati dalla Sardegna e risultati positivi al Covid-19. Ovviamente sono in isolamento e stanno bene in salute, sono asintomatici, però è proprio di ieri la notizia per quanto riguarda altri contagi nel comune di Montecorice, in particolare una persona è risultata positiva, anche qui le persone non sono residenti del comune ma provengono da altre città e sono di rientro dalla Spagna. Ci sono alcune anomalie però che sono state riscontrate in questo caso. Possiamo spiegare bene come è andata la situazione nel comune di Montecorice, anche per fare chiarezza su ciò che è accaduto? Sicuramente, prima di tutto appunto, come hai ben detto tu, i ragazzi stanno tutti bene, sono asintomatici e insomma il comune e l'amministrazione comunale gli è vicino, chiariamo ogni dubbio fin dall'inizio insomma. Tuttavia, come hai ben detto, la vicenda presenta dei lati delle falle, cioè la procedura per cui questi ragazzi, secondo noi, sono arrivati qua, non garantisce la sicurezza né dei ragazzi né della comunità che in questo caso li ospita. Come hai ben detto tu, queste persone non sono residenti ma hanno scelto di passare l'isolamento inizialmente fiduciario nel comune di Montecorice senza che il comune fosse avvisato. I ragazzi rientrati dalla Spagna stavano qua già dal 27 agosto, noi l'abbiamo saputo solo il 4 settembre quando ci è stato comunicato l'esito del tampone. Così anche ieri abbiamo avuto un'azione, comunicazione introdotto diciamo telefoniche, perché noi di documenti scritti non ne abbiamo avuti da parte dell'autorità sanitaria, in cui ci viene comunicato appunto che c'è un caso positivo in isolamento nel nostro comune insieme ad altri tre ragazzi che facevano parte del gruppo con cui questa ragazza viaggiava e che hanno scelto Montecorice come luogo dove passare l'isolamento. Il problema è questo, nel senso che andrebbe chiarita questa questione, mentre per esempio già gli altri ragazzi avevano una casa di proprietà, sembra che a Montecorice questi ragazzi siano arrivati attraverso amici o amici degli amici, ma oltretutto il problema è che dall'aeroporto a Montecorice noi ci basiamo… Scusami, facciamo un passo indietro, infatti questi ragazzi di rientro dalla Spagna, originari del napoletano, si sono fermati a Capodichino, giusto all'aeroporto, quindi lì è stato effettuato il tampone, giusto? Da quello che sappiamo è che abbiamo ricostruito un documento ufficiale che ricostruisca la vicenda da parte dell'autorità sanitaria, noi non ce l'abbiamo, abbiamo fatto delle telefonate, non sapevamo neanche che voto avessero questi ragazzi, i dati li abbiamo presi facendo delle telefonate, oggi il sindaco sta firmando l'ordinanza per l'isolamento obbligatorio, che gli verrà notificata dai carabinieri e diciamo noi il sindaco, in questo caso l'amministrazione comunale, siamo gli ultimi a sapere di questo procedimento, di questo processo che porta in questo caso le persone a passare l'isolamento nel comune di Montecorice, però secondo me, secondo anche l'amministrazione con la quale mi sono confrontato, con il sindaco, ci sono dei buchi, delle falle in questo sistema, cioè chi ci garantisce che poi servono per dare tranquillità ai cittadini, per dare una giusta informazione naturalmente a chi vuole sapere, perché quando si hanno queste notizie tutti vogliono capire perché, quindi è giusto che ci sia una trasparenza, io mi rendo conto che è complicato organizzare dentro di magari migliaia di persone, però bisognerebbe fin da subito coinvolgere l'amministrazione comunale per garantire l'arrivo in sicurezza se ce ne sono i presupposti e quindi di garantire subito l'isolamento delle persone e delle cure necessarie di cui hanno bisogno, invece noi lo sappiamo sempre dopo, nel primo caso dopo molti giorni l'abbiamo saputo, quindi si riversa sul comune una responsabilità, insomma, secondo me è giusto che noi ci assumiamo, però mi sembra che vada al di là a volte anche delle nostre possibilità, faremo di tutto per stare vicino ai ragazzi, però abbiamo bisogno sicuramente di un sopporto maggiore da parte delle autorità regionali o del servizio sanitario. Poi chi ci dice a noi che da Capodichino a qui le persone non abbiano fatto delle soste, io non metto in dubbio niente, però per avere la certezza che è quella che poi vogliono sapere i cittadini bisogna trovare il modo di garantire un cordone sanitario che li porti a destinazione fumando ogni dubbio su possibili tappe intermedie, perché noi siamo e ci vogliamo credere a quello che ci hanno dichiarato i nostri ospiti che non si sono fermati in alcun posto, però di fatto è una dichiarazione che fanno loro, non è certificato da nessuna parte. Certo, hai perfettamente ragione Pasquale, bisognerebbe capire appunto a Monte, insomma il perché questi ragazzi siano poi arrivati a Monte Corice, perché ovviamente sono residenti nel napoletano e quindi non sono rientrati nelle proprie abitazioni, anche questo insomma è un punto un po' oscuro della vicenda, come vi state organizzando, cioè che cosa avete fatto in merito, avete segnalato alla Regione, all'ASL, che continua insomma credo a questo punto a non dare informazioni chiare, soprattutto agli enti preposti e quindi ai comuni, che ovviamente poi si devono fare carico di responsabilità come quelle che oggi state vivendo. Allora, io mi sono confrontato ieri con il sindaco di Pollica Stefano Pisani, perché è delegato Ance e fa parte dell'unità di crisi, per mostrargli il problema e lui insomma ci siamo confrontati e mi ha detto insomma che esporrà questo problema. Mi rendo conto che è difficile ed è complicato, però secondo me ci vuole, basta poco, basta prima di tutto informare le amministrazioni coinvolte, perché è capitato a Montegoci, però può capitare a qualsiasi comune cilentano o campano, che qualcuno scelga di andare a soggiornare in un posto, pur in questo caso non essendo residente, non avendo un'abitazione, quindi penso che sia una cosa da chiarire questa assolutamente, e penso che bisogna coinvolgere fin da subito il sindaco del luogo in cui queste persone poi scelgono di, se possono, naturalmente anche questo va capito a monte, una cosa è essere residente e proprietario di casa in un comune, una cosa è scegliere di andare in un comune piuttosto che in un altro per motivi di convenienza, secondo me anche su questo bisognerebbe, e poi garantire tutto il processo, cioè è importante anche organizzare un cordone sanitario dall'aeroporto, dal punto di arrivo fino al luogo, al comune in cui queste persone scelgono di fare l'isolamento, che garantisca e dia la certezza, soprattutto ai cittadini, per non generare paure assolutamente fuori luogo, che però si generano quando c'è incertezza e quando non c'è chiarezza e trasparenza, che certifichi che queste persone non si sono fermate in nessun altro posto, noi di fatto di ufficiale, di documenti ufficiali che ci dicano perché sono venuti qua, come sono arrivati qua, non ce li abbiamo, noi l'abbiamo saputo, a tampone fatto e a persone già entrate nel nostro territorio comunale, quindi adesso il sindaco si appresta in questi momenti, in questi atti, insomma stati là nell'altra stanza, a firmare l'ordinanza che impone l'isolamento obbligatorio. Poi c'è tutto anche la questione dell'assistenza, giustamente Pisani mi diceva sarà tutto rimborsato, però per un piccolo comune, come dire, anche organizzare il servizio a volte può essere difficile, quindi abbiamo bisogno anche noi di un supporto, di qualcuno che ci aiuti a mettere insieme tutti i tasselli e a garantire anche un'assistenza adeguata a queste persone. Che ripeto, nulla contro di loro, anzi io faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione e di non contaminazione e contagio degli altri ragazzi che stanno insieme alla ragazza, che per quello che ho capito è asintomatica e sta bene. Perfetto Pasquale, sicuramente auspichiamo tutti che queste situazioni si possano risolvere nel migliore dei modi, però come hai ben detto tu, ci vorrebbe un po' più di chiarezza e soprattutto un po' più di sostegno per i comuni del Cilento, ma in generale in questa situazione ne abbiamo viste davvero tantissime, ascoltate altrettanto, quindi bisognerebbe un attimino essere un po' più responsabili proprio per contenere i contagi ed evitare la diffusione del virus, anche se ultimamente stiamo sentendo anche dai dati nazionali che la carica virale è abbastanza bassa, quindi questo è un po' il dato che ci fa ben sperare, ma siamo alle porte della stagione autunnale, dunque non sappiamo che cosa succederà. Ci sarà anche la riapertura delle scuole, quindi in virtù di questo è bene che i comuni prendano le dovute precauzioni, le giuste misure anti-Covid. Voglio fare un appello direttamente al Presidente della Regione, De Luca, in quanto essendo uno di concretezza e di fatti non può lasciare che ci sia questa falla sia nell'informazione istituzionale, sia per quella che bisogna dare ai cittadini, ma soprattutto questa incertezza nel percorso che fanno le persone dall'aeroporto fino a venire nel luogo in cui hanno scelto di venire, perché non parliamo di persone che hanno la residenza a Monte Corice o nel comune che hanno scelto, parliamo in generale, a Monte Corice è un esempio, può capitare a qualsiasi altro comune, visto che è successo a noi, immagino che magari, c'è anche il sospetto per come sono andate le cose, che possano esserci persone nei comuni all'insaputa di tutti, perché magari sono in isolamento, però il tampone poi magari sarà negativo, giustamente, e nessuno ha l'idea che sia un isolamento in qualche luogo, dici poco male, poco problema, per sapere quello che accade sul nostro territorio. Penso che ci sia una falla, appunto, tra, in questo caso, tra quello che succede a Capodichino, in questo caso, nel caso concreto, e fino a Monte Corice. Abbiamo dovuto recuperare le informazioni da soli, facendo le telefonate, quindi penso che vada gestito in un modo assolutamente migliore. Poi siamo ancora in piena stagione estiva, quasi al vicino all'autunno, ma ancora, ringraziando a Dio, è estate, abbiamo molti ospiti. Penso che sia, come dire, un motivo che ci creiamo di incertezza e di paura che non ci possiamo permettere, oltre, naturalmente, prima di tutto che di sicurezza sanitaria. Benvenuti, chiunque vuole trascorrere il periodo, magari, di smart working da noi, ci possiamo organizzare in qualsiasi modo, però sono situazioni queste che ci fanno stare un pochino così, col fiato sospeso, e fanno stare col fiato sospeso i nostri cittadini che, naturalmente, vogliono risposte e penso le debbano avere, in tempi brevissimi. Io aggiungerei anche che bisognerebbe chiarire anche il fatto che lo spostamento, poi, dall'aeroporto a scegliere un comune qualunque, insomma, non quello di residenza, quindi rientrare nella propria residenza. Ecco, anche questo bisognerebbe capire perché, perché, sinceramente, non è proprio... Noi pensavamo e pensiamo che chi arriva deve andare nel luogo della propria residenza, cioè, poi, non so come si possono realizzare, ma non penso che ognuno possa scegliere la meta più comoda o che gli fa più piacere, soprattutto non concordandolo con le amministrazioni locali, penso che sia un passaggio obbligatorio, penso che sia così, prima di tutto per un fatto istituzionale, e anche di comunicazione istituzionale, se no, diciamo, tutto diventa più difficile da gestire. Certo, hai perfettamente ragione, cercheremo di informarci anche noi come organi di informazione su questa vicenda, perché davvero bisogna fare chiarezza e soprattutto dare le corrette informazioni ai cittadini dei comuni. Diciamo, la situazione è sotto controllo, ma, come dire, per riperire le informazioni abbiamo dovuto lavorare. Ringrazio Stefano Pisani che ha preso a cuore la questione e che la porterà direttamente sul tavolo dell'unità di crisi, penso che bisogna prendere in tempi brevissimi delle decisioni in merito, perché è evidente che c'è una falla nel sistema. Certo, hai perfettamente ragione, ci terremo aggiornati Pasquale, perché andremo anche noi a capire il perché di queste falle, poi eventualmente ci aggiorneremo anche per come procede la situazione nel comune di Montecorice. Un in bocca al lupo e grazie per il lavoro che svolgete ogni giorno. Anche a voi, grazie Raffaella. Buona giornata a tutti. Pasquale. Bene, allora, il vice sindaco del comune di Montecorice, Pasquale Tarallo, nei prossimi giorni ci aggiorneremo proprio con il sindaco, con il vice sindaco per capire come procede la situazione, ma allo stesso tempo ci informeremo anche per quanto riguarda quello che è accaduto a Montecorice.